ciao a tutti ragazzi bentornati nel nostro canale youtube sono in compagnia di laura oggi come ogni terzo lunedì del mese video dedicato al mangaka giapponese prima di iniziare vi ricordiamo di che in descrizione trovate le opzioni da votare nei commenti per il prossimo video che sono kiyo shimoku l'autore di otaku club genshiken yuji shiozaki l'autore di ikitosen e takao yaguchi l'autore di sanpei bene quindi fateci sapere nei commenti su qual autore fare il prossimo video adesso nel precedente sondaggio ha vinto l'autore di aganai ovvero itachi ovvero il mangaka di aganai allora diciamo subito che itachi inizialmente era un autore di doji nishi e lo è ancora tuttora si faceva chiamare tre ditti poi successivamente è salito alla ribalta per aver diciamo per essere stato appunto il mangaka di aganai aganai che cos'è tradotto letteralmente dal giapponese eccetera è io ho pochi amici ovvero boku attomo da chigà su kunai la frase in giapponese è una serie di light novel fatta da yomi hirasaka e da buriki fatta da 11 volumi che nel 2010 è stata pubblicata su montoli comica live ed è iniziato appunto il manga il manga è disegnato appunto da itachi in giappone è in corso siamo al diciottesimo volume su 20 e si concluderà appunto quest'anno nel 2020 in italia edito dalla j pop come si può vedere con sovracoperta è iniziato appunto la pubblicazione italiana nel 2012 e sono 17 volumi attualmente di che cosa parla ganai parla di un ragazzo kodaka asegawa che si è trasferito dagli stati uniti col padre con la sorellina piccola che frequenta un istituto appunto di scuola superiore cattolico e lui è un po visto come un teppista perché praticamente ai capelli tinti di biondo non frequenta nessuno e tutto e si imbatte in giorno una ragazza ovvero io zora sua compagna di classe e insieme fondano praticamente questo club del tuo prossimo praticamente una specie di circolo scolastico dove le varie persone vanno un po per socializzare chi non ha amici poi ci sarà tutta una storia dietro tra questi due protagonisti e co a tutti una storia molto molto interessante devo dire che del manga io non lo sapevo mi sono documentato ma esiste anche una versione alternativa con la storia un po leggermente diversa pubblicata su jump square fatta da misaki harukawa e shoichi taniguchi addirittura e poi ovviamente è stato trasposto in anime in due serie la prima da 12 episodi del 2011 e un ov del 2012 e la seconda boku watto modachi ga su kunai next nel 2013 questo è un po quello che concerne a ganai poi nel canale trovate anche un video nella playlist video acquisti manga dove ho fatto al tempo una recensione più approfondita oltre ad a ganai itachi ha fatto altri lavori tra cui il crossover boku watto modachi ga su kunai x seita kai no ichizo è un crossover special uno spin off crossover in cui c'è questo personaggio femminile di seita kai no ichizo che va a frequentare il club del tuo prossimo cose brevi praticamente oltretutto c'è stato anche un altro lavoro ovvero boku watto modachi ga su kunai koshiki anthology comic ovvero una raccolta di short stories di storie brevi di aganai successivamente altri lavori di itachi sono stati fujimoto anzuwa gokigen nanamae ovvero una light novel e poi la doujinshi abbastanza famosa fate stay night dj overtour per ovviamente per adulti successivamente ancora ha collaborato con vari autori all'osomatsu san koshiki anthology comic mess appunto incentrato sulla famiglia osomatsu di appunto altre una raccolta di storie e poi ultimo lavoro di cui vi volevo parlare yon koma koshiki anthology toaru kagao no rail gun x toaru majutsu no index sono tre volumi di quattro storie appunto di vari autori tra questo crossover di queste due serie quindi ci sono anche delle storie appunto di itachi bene che dire a me questo è un manga e anche come disegni che mi è piaciuto molto itachi veramente un bravissimo illustratore e che dire ragazzi per questo video è tutto io vi ricordo di farci sapere nei commenti su quale autore fare il prossimo video se il video vi è piaciuto lasciato mi piace commentato condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao